benvenuti in questa guida top 7 macchine fotografiche istantanee di consiglio pro tra questi 7 abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative non dimenticare di iscriverti al canale e di mettere mi piace ma partiamo subito al settimo posto troviamo fujifil mistax square sq 20 fotocamera la fujifil mistax square sq 20 è una fotocamera istantanea e digitale con micro sd che offre la possibilità di registrare video e stampare in formato quadrato 62 x 62 mm la qualità delle immagini è eccellente con colori vivaci e dettagli nitidi punteggio 78 punti info in descrizione sesta posizione al sesto posto troviamo polaroid now gen 2 fotocamera la polaroid now gen 2 è una fotocamera istantanea di alta qualità la sua azzurra finitura lucida e moderna è unica nel suo genere la fotocamera ha una risoluzione eccellente un flash automatico e una funzione di autoscatto il design compatto e leggero la rendono facile da trasportare punteggio 81 punti info in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo kodak mini shot 3 retro la kodak mini shot 3 retro è una fotocamera istantanea e stampante 2 in meno 1 di grande qualità la fotocamera ha un design retro ed è dotata di un obiettivo grandangolare che consente di scattare foto nitide e di qualità superiore il pacchetto include anche 68 fogli bianchi per stampare le foto punteggio 78 punti info in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare fuji film instax mini 11 sky la fuji film instax mini 11 è una fotocamera istantanea di alta qualità la modalità selfie e l'esposizione automatica rendono facile scattare foto nitide e ben illuminate le foto sono di formato mini 62 x 46 millimetri e la macchina è disponibile in una varietà di colori punteggio 87 punti info in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo fuji film instax mini liplay blush la fuji film instax mini liplay è una fotocamera ibrida istantanea e digitale con un design elegante e moderno la funzione sound consente di registrare fino a 10 secondi di audio sulla foto mentre la funzione di scatto remoto e il bluetooth rendono più facile condividere le tue foto punteggio 91 punti info in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo fuji film instax mini 12 mint fuji film instax mini 12 è una macchina fotografica istantanea divertente e facile da usare il design pop e il colore verde menta rendono questa macchina fotografica un must per qualsiasi appassionato di fotografia la modalità close up e lo selfie sono utili per scattare foto creative punteggio 96 punti info in descrizione prima posizione vince la classifica polaroid now gen 2 fotocamera la polaroid now gen 2 è una fotocamera istantanea di alta qualità la qualità dell'immagine è eccellente e la velocità di scatto è rapida il design è moderno ed elegante con una buona ergonomia la batteria dura a lungo e la connettività bluetooth è un plus punteggio 90 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al canale grazie a tutti no 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 Autore dei sorrisi